Salve gente, sono Mandicube e vi do il benvenuto a Mappe Abominevoli In particolare oggi siamo in Custom Map La Fuga dall'Isola Si chiama Custom Map La Fuga dall'Isola, Custom Map fa parte del titolo Innanzitutto comincerei a dire che si parte a metà in creative, sollevati da terra con un po' di roba in inventario E al centro della mappa Direi quindi di tagliare un attimo e andare all'inizio, a dopo Ok, spero che l'inizio sia questo, ha l'aria di essere un inizio Mi svuoterei l'inventario, mi metterei in survival o adventure? Facciamo survival va? Vediamo se mi dice dopo di stare in adventure Ok, regole Gioca in pacifica Non bloccata, ovviamente Le regole le trovi sull'altra isola, questo che cos'è? Custom Map La Fuga dal Spazio 1 1 dove siamo finiti Allora, cominciamo Allora, non so Questi, innanzitutto, presentazione della mappa Intanto prendo il cibo e guardo un attimo qua Che... Ok, una miriade di robe abbastanza senza senso Questo probabilmente mi servirà dopo Sì, possiamo andare Ok Primo parkour facoltativo Ok, perché effettivamente potrei nuotare Cominciamo subito con l'introduzione a questa mappa Sì, abbiamo cominciato Separati da Tutto e tutti In mezzo alla mappa In creative Senza un inizio Senza niente di che Eccetera Quello che dico sempre Una piccola stanza Per i player Per iniziare Con le regole Separate da tutti Con le regole Separate da tutti C'è proprio un'introduzione alla vostra mappa Ci siete In questo modo non siete ancora nella mappa Avete già aperto il file della mappa Ma non siete ancora nella mappa Ok Credo ci sia solo quello Nonostante un cartello che c'è qui sotto Vi ripeto Io queste mappe le gioco già prima In modo da potervi dire Base Ok Regole Non rompere o aggiungere blocchi Quindi Mi metto in Game Mode 2 Gioca in Easy Normal Hard Due secondi fa Mi ha detto che dovevo stare In Come si chiama In Peace Va bene Usa too many items Senza la I In caso di emergenza No hack Cioè La regola 3 4 messe in fila Sono fantastici 3 Piazza le leve Solo sui blocchi d'oro Quindi Poteva mettermi in adventure E darmi le leve Solo da usare i blocchi d'oro Si può Gicare in due Buon divertimento C'è qualcos'altro Ecco qua Nota Avvertenza E trama No Vediamo Nota Prima di andare Nella private room Esporo all'isolotto Non andare oltre Gioca in survival No 2 3 Questa è la mia prima Custom map Cusa se ci saranno Degli errori Beh Sei finito su un'isola A causa dell'affondamento Di una nave La Quen Peace Con la vostra Scialuppa Siete arrivati Su questa isola Buon divertimento Allora Innanzitutto Abbiamo L'esatto contrario Di quello che dico C'è una stanza di partenza Qua abbiamo Due isole In cui Tutto l'inizio È Allungato All'inverosimile Che fine ha fatto La nave Su cui siamo andati Non ci sono altri Superstiti Non è rimasto nulla Perché sapevamo Di questa base Proprio la trama Mollata a se stessa Direi di andare avanti E vedere che cavolo Succede Qui abbiamo La private room Notare che ci ha detto Prima di esplorare Sull'isola Nonostante non ci sia nulla E naturalmente Sta fiorendo Andiamo a vedere Private room Ok Abbiamo delle armature Indosso un'armatura E armati a dovere Piccone Io vi ricordo Che mi ha appena detto Che non devo Assolutamente Scavare nulla E l'unica arma Che mi dà È un piccone Di legno Troveremo dei mostri Che dovremmo affrontare Solo con piccone di legno Perché è un piccone Anche se comunque L'accendino Che credo sia meglio Andiamo avanti Capitolo 1 Dove siamo Non c'era un cartello in alto Con scritto 1 Dove siamo Parkour con la lava Allora Scegliete la vostra trama E Dategli un senso Siete affondati Con una nave E vi trovate su un'isola Perché Decidiamo di affrontare Un parkour di lava In una base Che non sapevamo Della nostra distanza Seconda roba Consistenza Se date gli oggetti A un player Fateglili usare Non Fategli Non dateglili Solo per levargli Subito La Andiamo E affrontiamo Questo mega parkour Ora Le ultime parole famose Cado nella lava E La Notare Che era perfettamente Nelle regole Se io avessi Spaccato Come si chiama Questo minecart E ci fossi passato Attraverso il muro Tanto potevo E non infrangevo Alcuna regola Checkpoint Controllate gli errori Di grammatica Eventualmente usate La tag Translate In modo da Poter correggere Tutti gli errori Della mappa in maniera Facilissimo Checkpoint Checkpoint Andiamo avanti Anche perché credo che sia Ah no è giorno Ok È notte Quindi posso dormire Gli spawn point Non fateli mai Colletti Perché 99 su 100 Rischiate che il player Rimanga intrappolato Finisca in un muro O si annulli Usate il comando Spawn point In modo da settargli Lo spawn Senza il minimo problema Andiamo avanti Riponi I tuoi oggetti Usati qui Li abbiamo usati? No Per quale motivo Megli ha dati? Nessuna ragione Nessunissima ragione Megli ha dati Semplicemente per darmeli Vi ripeto Quando volete Far usare Gli oggetti Quando date degli oggetti O player Fate un modo Che abbiano un senso E trova le ceste Rompi i blocchi Di diamante Rompi le ceste Notare che io Dovrei essere in survival Notare che mi ha detto Di non spaccare Quindi mi sono messo In survival In adventure Rimattiamoci in survival E troviamo la roba Mi pareva fossero Due ceste Una qua Una qua No mi ricordo male Qua una ceste Sicuramente Ok Level Da piazzare Solo sui blocchi d'oro Consistenza 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 Forse c'era anche qualcos'altro Fatemi un attimo Solo controllare Se volete Che il player Faccia una cosa Fateli fare quella roba Non Dimenticatevene Un minuto dopo Che l'avete fatta Qua cosa c'è C'è un pezzo di circuito Inutile Perché vi lo vorrei far notare Che Queste pressure plate Muovono dei pistoni Che non fanno Assolutamente nulla Fanno solo rumore Consistenza Consistenza Trama Circuiteria Per il momento Perché comunque Poteva semplicemente Mettermi in adventure E fare in modo Che questi picconi Scavassero solo i blocchi Che vuole lui Ovvero Quello d'oro No scusate Quelli di diamanti E darmi delle leve Che possono essere piazzati Solo Sui blocchi d'oro Qui in teoria Io dovrei poter Spaccare il diamante Ma andiamo avanti Perché c'è un'isola Fatta di diamante Non lo sapremo mai Andiamo avanti Affrontiamo la nostra sfida 200.000 bank Vai a quel isolotto Ok Notare che non viene neanche indicato Quindi io potrei intendere Quello là in fondo Però diciamo che sia questo Andiamo avanti Ben 20 metri d'acqua Capitolo 2B Diamond Island Che fine ha fatto Il capitolo 2A Lo Ricontrollate queste cose Questi errori banali Roba d'oro Come se fosse migliore Checkpoint Che non si può usare Di giorno Motivo per cui Non andrebbero mai usati I letti E affrontiamo adesso Un'altra prova Perché Vi ricordo che La trama È che io sono Sperduto su un'isola Eppure devo O decido io Di affrontare delle prove E fra poco vedrete Quanto è utile Questa prova Vai avanti Allora Acqua Ok E una volta fatto questo Arriviamo in superficie Mi pare che di qua Sia più veloce D'andare Ok perfetto Potevo farla A piedi 20 metri D'acqua Neanche Capitolo 3 Follia Sì Follia ci siamo Ma anche prima Era follia Oh E questa mappa Diventerà ancora più bella Vedrete il finale Il finale vi lascerà Senza fiato Ve lo assicuro Ah Finalmente Terraferma Ma è Deserto Segui la strada Perché sto cercando la terraferma Hai finito scorte di cibo No No Ma va bene Andiamo avanti Seguiamo un percorso fisso Parkour Obbligatorio Questa è un'altra cosa Che non dovete mai fare Lasciare al player La scelta Se fare o no Le vostre sfide Cioè il player deve volerle fare Uno Non dovete mai obbligarlo E due Cioè non lasciateli così È tanto Margine ampio Di andare via Perché ora vi faccio vedere Sto checkpoint Per la terza volta Se io potrei respawnare In uno di quegli angoli Non potrei più uscire Perché vi ricordo Non posso spaccare i blocchi Notare quanto era difficile Superare questo parkour Fate sempre in modo Che il player sia obbligato A fare le vostre sfide Non possa andare oltre Ma fate in modo Che le voglia fare Se fate continuamente Solo parkour Notare che qua La mappa continua Quindi io non avrei Alcuna ragione Per salire questa torre Nessuna al mondo Roba in diamante Andiamo in cima Vedrete Avrò poco perché Non prendo la roba in diamante Ok Andiamo qua Quando fate i parkour Non dovete Allora Innanzitutto controllateli Per vedere che non siano impossibili In secondo luogo Controllate che il player Non possa saltarne metà Perché anche quello Non ha senso Là Tutte queste scale Io le sto evitando Senza il minimo problema Tac E siamo in cima Ed ecco qua Il motivo per cui Non ho fatto nulla Spada Ok Ci sono dei nemici in giro Efficiency Ok Mi levo questa roba Di dosso E prendo la roba Qua Bella incantata Ha uno scopo? Assolutamente no Vedrete fra poco Che non la userò mai Questa armatura Ed eccoci Finalmente giunti Per chi se lo ricordasse All'inizio Oh Io se sono caduto Per chi se lo ricordasse Siamo finalmente arrivati All'inizio della mappa Inizio nel senso Dove eravamo finiti Vi ricordo Che L'idea Sempre la trama Perché probabilmente Ve la state dimenticando Ci siamo schiantati La nostra nave affondata E abbiamo deciso di Quindi invece di salvarci la vita Fare dei casino Capitolo 5 La fine Non fatevi ingannare Complimenti Avete completato L'ac Mappa Hai finito Puoi costruire una città Qui una casa O esplorare Ciao Alla prossima custom mappa Mappa creata da Non vi dico il nome Non merita Fine trama È finita Potete rinornare a casa Grazie ai vostri cellulari Smartphone Vi hanno rintracciato Ed è partito un segnale SOS Cia Complimenti Hai finito la mappa Eh Al Quindi Non mi rintraccevano Perché non Prendevo il cellulare C'era un relitto Di una nave Credevi fosse finita È segui la strada Perché ovviamente C'è il finale Sorpresa Cosa vuol dire Tutto ciò Non potevano venire A rintracciare la nave Dovevano rintracciare Apposta il mio smartphone L'unico mio smartphone Capitolo 6 Non è ancora finita Checkpoint Sta venendo l'ansia ormai E ora signori Preparatevi al più grande Colpo di scena Che avete mai visto In una trama Come ho detto Alla fine Ti hanno rintracciato Ma un hacker Ha bloccato Tutto Si dice Chi sia uno scienziato Trova il laboratorio Uccidilo Allora Se mi rintracciano Con un cellulare Sanno la mia posizione E poi bloccano il segnale La gente viene a controllare In quel punto A me basta stare fermo Lo scienziato Non può bloccare tutto Accorto di cibo Ok Qua ho l'opzione Per scegliere Se sono accorto di cibo No Andiamo avanti Parkour obbligato Non è più obbligatorio Stavolta è solo obbligato Tac Tac Ok Tac Ok Ragioni di ciò Non lo so Perché siamo Date sempre consistenza La mappa La trama Deve avere senso Per tutti i personaggi Il fatto Perché lo scienziato Mi sta bloccando Perché me Perché sto esplorando Queste cose Perché ci sono Dei parkour Nel deserto E io li faccio Date Sempre una ragione Se date la trama Un attimo solo Scusate Ok Piccoli problemi tecnici Chiamati vita Cosa stavo Cosa stavo dicendo Aggiusto Consistenza Per la trama Dei personaggi Vi dovete sempre mettere E concentrare su questa roba Ogni vostro personaggio E ogni ambiente Deve avere La sua trama personale E devono collidere Io sono Un tizio Su una nave Che è affondata Perché esploro Dungeon A cavolo Per Poi Io sono un dungeon In un deserto Perché sono qui Chi mi ha costruito Qual è lo scopo Perché posso essere Aggirato all'istante Io sono uno scienziato Che me ne frega Di sto povero uomo Che è appena affondato Con la nave Trovo il tesoro Di flint Visita la piramide E l'altro edificio Poi continua Dall'altra parte Della piramide Visitiamo la piramide Questo è il tesoro Di flint Qual è Allora Per quanto riguarda L'altro edificio Non lo mostrerò Per il semplice fatto Che non ho idea Di quale sia L'altro edificio Ehm Non Non ho proprio capito Ho esplorato Per un bel pezzo E non sono riuscito A trovare nulla Che somigliasse A un Altro edificio Senza andare Oltre la piramide Ah qui c'è Semplicemente Un ponticello Quindi non mi farà Neanche il caso Di mostrarlo Andiamo quindi avanti No di nuovo mare Un metro di mare Che potevo evitare Notare che potevo Evitarlo Se proprio sono così Terrorizzato dal mare Capitolo 7 Il laboratorio Andiamo avanti A vedere chi c'è Io sono lo scienziato Nonostante io Nonostante io debba essere In survival Se no spaccavo i blocchi Di diamante Di prima Andiamo dall'altra parte Vedere che cosa c'è Magari l'altra entrata Di qua Sono solo io Che non l'ho vista No Buongiorno Leggi E bottiglia d'acqua Che è qua Perché non lo sapevo mai Leggi Non uccidermi Per favore So come salvarti Non ascoltarlo Vuole solo Ce lo risparmi So come salvarti Mi avevano già ritracciato Cioè Perché quest'uomo Ce l'ha con me Hai postumi L'ardua sentenza È corretto Io sto dicendo postumi Perché credo che L'unico modo per capire Questa trama Sia ubriacarsi Di brutto I miei antenati I miei discendenti Non ce la faranno A capire la trama Di questa mappa Io laggiù Non ci vado Diamoci State per assistere Al finale Uno dei finali Più belli Che avete mai visto In una mappa Commuovente E pieno di pathos Capitolo 8 Verso casa Entra nel portale Quale portale? Quale portale? Proviamo a farlo noi Vi assicuro Che non è quello Dell'end Perché ho provato Nella versione originale A vedere se era Quello dell'end Me ne do 40 Crepi L'avarizia Tac Eh Ok Ok Rotule E andiamo a vedere Cosa ci riserva Il nostro viaggio Nel nether Preparatevi A un finale Che non ne avete mai Visti Per il semplice fatto Che non c'è un finale Ho esplorato il nether Mi sono messo in game mode 3 Ho provato a cercare qualcosa Ma non ho trovato fisicamente nulla Che sono Una continuazione di questa trama Sei per caso tu? No Tu sei solo un pezzo di glowstone Sei per caso tu? No Sei un pigme E la trama finisce qua Abbiamo ucciso Lo scienziato E abbiamo deciso Di andare all'inferno Perché? Senza lo scienziato Ora dovrebbero riuscire A rintracciarci Dovevano anche prima Ma Non so Filiamo E siamo qua Ricapitolando Coerenza Controllate bene La trama Di tutti i vostri personaggi Ambienti Che funziona Seconda cosa Obbligate I player A fare le vostre sfide Ma rendetele belle In modo che il player Voglia affrontare È una mappa parkour Ditelo al player Che è una mappa parkour E mettete tanti parkour Non uno ogni tanto Facilmente evitabile In totale ho fatto 3 parkour 4 No 3 E trovo soltanto 3 parkour Una piccola zona di partenza E curare soprattutto La grammatica La quantità di errori grammaticali Che ho trovato È abominevole Ciao casa Direi quindi Di poter concludere qua Questa mappa è stata Custom map La fuga dall'isola Che alla fine Ci ha portato all'inferno Quindi non è riuscita molto bene Direi quindi Di salutarci Se il video vi è piaciuto Per favore commentate Se volete mettete un mi piace E iscrivetevi al canale Grazie mille per aver guardato E ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.